Crescono gli iscritti e le imprese operanti nel settore agricolo, con la previsione di investire 180 milioni in economia reale. Questi alcuni dei dati presentati nel corso della prima relazione annuale di Empaia, l'ente nazionale di previdenza per gli addetti e per impiegati in agricoltura. I lavoratori iscritti alla gestione ordinaria crescono del 2,8%, mentre aumenta del 2% il numero delle imprese attive nel settore. È stato un anno complicato per le congiunture internazionali, ma al quale la fondazione ha risposto con fermezza, come ha spiegato la governance di Empaia. Abbiamo programmato nel 2020 di fare investimenti in economia reale per 180 milioni di euro. Pensiamo che le CAPS abbiano un dovere, quello di garantire le pensioni, di garantire una redditività, ma al contempo di aiutare il sistema di riferimento, l'economia di riferimento e la nostra economia di riferimento all'agricoltura, che è anche eccellenza del Made in Italy e qualità. Quindi poter investire in alcune aziende, in alcune fondi che sostengono l'agricoltura a Made in Italy, è una nostra priorità. Il 2018 è stato un anno che ha dovuto scontare le problematiche legate all'andamento dei mercati, per cui è stato un anno per noi complicato, però siamo arrivati bene. Pensavamo di avere dei risultati più importanti, però diciamo che la solidità dell'ente e della fondazione ci ha permesso di attraversare questo mare periglioso che è stato l'anno economico del 2018. C'è un grande lavoro da fare. L'Italia, essendo anche sul piano agricolo una eccellenza, ha bisogno di avere questi sostegni per poter competere nel mondo. L'INAIL ha sviluppato con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova un esoscheletro collaborativo e un robot teleoperativo. Si tratta di due nuovi strumenti che sostengono i lavoratori negli interventi in ambienti ad alto rischio. Nel corso di un workshop a Roma è stato fatto il punto sui risultati. È emerso come in alcuni contesti lavorativi possa essere particolarmente vantaggioso l'ausilio degli esoscheletri, un dispositivo capace di potenziare le capacità fisiche dell'uomo. Il progetto del robot teleoperativo è nato invece con l'obiettivo di limitare il più possibile l'esposizione dei lavoratori in ambienti a rischio. Prenderà il Via Domani ai Musei Capitolini 1909-2012, 110 anni di luce, Acea e Roma, Passione e Innovazione, una mostra che celebra la storia dell'elettrificazione nella capitale. L'esposizione racconta oltre 100 anni di evoluzione tecnologica, dalla centrale Montemartini, prima centrale elettrica pubblica di Roma, alla transizione energetica. Proprio la centrale, primo impianto pubblico della capitale per la produzione di energia elettrica, fa da cornice alla mostra, che potrà essere visitata fino al 26 gennaio. Negli ultimi anni abbiamo investito centinaia di milioni di euro sul potenziamento dell'elettrificazione romana. Siamo in un periodo di transizione energetica, Acea lo cavalca con tutte le sue migliorimenti, spendendo ciò che serve e garantire un futuro oggettivamente smart a questa così bella città. Ci sono aspettative positive per l'andamento dei mercati del latte su scala mondiale, anche se la produzione era lenta. Lo rileva Fiera Agricola, rassegna internazionale dedicata all'agricoltura, in programma Verona dal 29 gennaio al 1 febbraio 2020. La paura dei dazzi trascina l'export comunitario. Entrati in vigore il 18 ottobre, i superdazzi del 25% che Washington ha applicato all'agroalimentare europeo erano attesi da mesi. Questo in parte spiega l'accelerazione dell'export dei prodotti lattiero caseari dell'Unione Europea, con un ritmo più marcato ad agosto.